È morto a Roma all'età di 83 anni l'attore Carlo Delle Piane. L'attore aveva da appena festeggiato i 70 anni di carriera, durante i quali aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori a livello mondiale. Basta ricordare i molteplici successi al fianco di Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e molti altri ancora, fino al fortunatissimo decennio con Pupi Avati. Carlo era ancora provato dall'emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel gennaio 2015 e che lo aveva portato fino al comma. Ma nonostante tutto questo dolore aveva festeggiato con la moglie, la cantante Anna Crispino, i 70 anni di carriera lo scorso anno alla mostra del cinema di Pesaro. Il mondo del cinema piange il grandissimo attore. Pupi Avati ricorda Carlo Delle Piane, con quel fisico così particolare, coltivava un ha una voglia di rivalsa. Il regista ha realizzato oltre 10 film con l'attore deceduto il 23 agosto, all'inizio non lo volevo, ma scoprì un po' alla volta uno spessore che non avevo immaginato. Carlo Delle Piane, morto il 23 agosto a 83 anni, è stato un attore capace di stare sul filo di equilibrio psicologico, ma prima un grande caratterista, i miracoli del cinema. Chi fece il miracolo fu Pupi Avati che lo scelse per un suo film gotico horror. Mi resi conto che qualcosa di grosso ribolliva in quel talento inespresso. Giorni fa andammo a trovarlo a Roma, era incosciente, ma quando mio fratello gli disse che stavo scrivendo per lui un personaggio bellissimo gli spuntò un sorriso, gli attori sono fatti così, dagli una parte e rinascono. E infatti Delle Piane era rinato, attore che visse due volte. Nato a Roma, in Campo de Fiori, il 2 febbraio 1936, fu scelto da Desica e Coletti per cuore nel 1948. Delle Piane non era il primo della classe e, quando arrivarono quei signori, si nascose pensando volessero interrogarlo. Per Carlo si apriva una stagione fortunata di piccoli ruoli con grandi partner. Data l'età, faceva spesso il figlio, Pecorino, gli rimase addosso, in film che fecero storia come Guardia e Ladri e la famiglia Passaguai, oltre che in decine di titoli di consumo. E quel nasone che andava subito in primo piano era frutto di una pallonata in faccia. Come Lucio Della, anche Carlo dice Avati con quel fisico così particolare, coltivava dentro una voglia di rivalza, una potenzialità e una malinconia che formavano un insieme esplosivo. Il 25 agosto a Roma, nella chiesa degli artisti di Piazza del Popolo, si svolgeranno i funerali di Delle Piane che affiancò giganti come Eduardo, Rachel, Sordi, De Sica, Totò. Con Aldo Fabrizi divennero amici, tanto che quando l'attore fu il boia nel musical Rugantino, Delle Piane fu in scena come Boietto, il figlio. Intanto si esauriva quel filone ingenuo di Bimoghi e se Delle Piane si trovò in panne. Nel 1973 ebbe un incidente d'auto per cui rimase un mese in coma. Quando si risvegliò non era ragazzino, aveva sfruttato i doni della giovinezza, era un bivio. E come il Pierino Alvaro Vitale incontrò la Marcord di Fellini, così Delle Piane incontrò la Marcord di Avati che operò il miracolo di trasformarlo in vero attore, tramutando il comico in tragico. In realtà Delle Piane aveva già tutto l'occorrente, era provvisto di malinconia esistenziale, come quel booster che Aton chiamava. Ricorda Pupi, all'inizio non lo volevo, ma scoprì un po' alla volta in Carlo uno spessore che non avevo immaginato. Girai una gita scolastica, travestendola all'inizio con una parrucca bionda perché al produttore non piaceva ma fu un successo. Anni belli e pieni, Carlo viveva un rapporto fraterno con me e Nick 900, continuavamo a lavorare e divertirci, fino a regalo di Natale che fu la nostra fortuna. L'attore studiava l'anatomia del personaggio, ma l'uomo delle piane combatteva battaglie con complessi che venivano da lontano. Dice Avati, non era un uomo facile, psicosomatizzava tutto, partendo da se stesso e da ipocondria non toccava nulla. La cosa triste è che, a parte Olmi per Tickez, nessuno dei miei colleghi l'ha mai preso in considerazione, forse si identificava troppo nel mio cinema. A Roma, poche settimane fa, hanno festeggiato i suoi 70 anni di carriera ma nella folla non c'era un regista. Dotato di quelle nevrosi che fanno parte del bagaglio di un attore, quel ragazzino, che aveva obbedito a Polanski e Monicelli, stava imboccando la discesa nella commedia scollacciata, ma mostrò con Avati di essere attore preciso, sensibile. Il primo incontro fu tutti defunti. Punto 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 Tranne i morti del 1977, Avati promosse Carlo delle Piane, abituato a fare il moccioso, a interprete premiato, di dieci film, oltre la tv. In queste storie era spesso malmenato dal destino, solo e solitario, infelice dentro e bisognoso di rivalza, come l'avvocato Santella, pocherista traditore in regalo di Natale per cui vinse la Coppa Volpi a Venezia nell'86, poi la rivincita di Natale. Ma il suo debutto maggiorenne, nell'83, fu il professore inutilmente innamorato di una gita scolastica per la prima volta protagonista in un ruolo di minimalismo sentimentale e come sarà per festa di laurea, sempre un gioco di timidezze incrociate. Con Pupi recita le strelle nel fosso, noi tre, via degli angeli e i cavalieri che fecero l'impresa, partecipando anche in tv a jazz band, cinema. Virgola Dancing Paradiso. A teatro, passa da Garine e Giovannini a una commedia spirituale, Ti amo Maria di Manfridi, che delle piane trasformò nel suo unico film da regista, poi scrive Io, Anna in Napoli dedicata alla cantante Anna Crispina, sposata il 16 maggio 2013. Il declino della carriera gli addossa male e spesso di stampo neurologico, nel 2015 è ricoverato per emorragia cerebrale, ma si ristabilisce. Il titolo finale è Chi salverà le rose? Di Cesare fu resi in cui delle piane torna ad essere il santella pocherista, ricordo di un uomo qualunque fra i molti suoi, e ciascuno fu gigante nella sua piccolezza.